Ciao a tutti alla ricerca dell'autostima perduta. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. E ti ricordo l'appuntamento di domani a Torino, venerdì 7 febbraio 2020, ore 20.45, col mio seminario dal titolo Seduzione emozionale per conquistare e sedure chi vuoi, riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo l'appuntamento di Milano, full immersion, domenica 1 marzo, dalle 9.30 alle 19, autostima e seduzione in amore al lavoro, riferimento 333 15 11 703. Benissimo, ti ricordo che puoi abbonarti al canale Massimo Taramasco e abbonandoti al canale Massimo Taramasco avrai, avrai la possibilità di intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e intraprendendo il tuo percorso di crescita personale con me e potrai, diciamo, avere accesso a due livelli di abbonamento, all'abbonamento base con lezioni mirate, all'abbonamento top con lezioni mirate e registrazione dei video. Mentre puoi abbonarti anche al canale Felicità Benessere per diventare con una cifra simbolica moderatore del canale e avere delle attenzioni durante le live. E veniamo alla ricerca dell'autostima perduta. Spesso noi perdiamo l'autostima, scendiamo in situazioni in cui arriviamo ad accettare anche per così dire un oltraggio alla nostra dignità, cioè accettare il fatto che persone, soprattutto nelle relazioni sentimentali effettive, ci trattino male. Cioè tendiamo a zerbinarci, anziché conquistare tendiamo a zerbinarci nel momento in cui ci zerbiniamo, non otteniamo sicuramente nessun risultato, non otteniamo sicuramente nessun beneficio e restiamo bloccati proprio in situazioni estremamente negative, in situazioni che ci rovinano fondamentalmente la vita, in situazioni che ci costringono, diciamo, senza poter fare di più a sopportare. Questo perché avendo, diciamo, accettando queste situazioni l'autostima si abbassa, cioè la percezione che abbiamo di noi stessi si abbassa e quindi accettiamo sempre di più situazioni negative. Ora, come possiamo fare per sbloccare questa situazione e venire fuori da questi, da questo impasse, venire fuori da questa situazione e finalmente essere liberi, essere liberi di raggiungere i nostri obiettivi, di essere liberi, di diventare persone con una buona autostima, cioè con una buona percezione di noi stessi. Ecco che dobbiamo tenere presenti i pensieri che manifestiamo nella nostra vita. Il pensiero che mi creo, che poi spesso hanno fatto il problema che non me lo creo io, dà vita alla realtà, alla realtà che percepiamo. E quindi sto pensiero si concretizza un po' in un pensiero dominante, cioè un pensiero che diventa, un pensiero che continua a dominare, diciamo così, all'interno della nostra mente, mettendo sotto scacco tutte le altre forme di pensiero. Questo pensiero dominante è un pensiero, diciamo, che spesso, nel caso dell'autostima, è un pensiero estremamente negativo. Cioè, che cos'è? Il problema è che noi, diciamo, tendiamo a disistimarci in quale area della vita? Lì dove i nostri genitori hanno fallito. Perché dove i genitori hanno fallito saranno dove i genitori andranno a pungolarci. Perché avendo paura che noi possiamo fallire a nostra volta, lì dove loro hanno falliti, cercheranno di darci suggerimenti, ma poi cercheranno di farci sentire dei falliti, da un certo punto di vista proiettando su di noi il fallimento che hanno vissuto loro. Quindi, se nell'area sentimentale effettiva hanno avuto fallimenti, andranno a mettere il becco proprio nella nostra area sentimentale effettiva, abbassandoci lì l'autostima. Sono soltanto dei pensieri, che inizialmente sono pensieri genitoriali, dopo un po' noi li introiettiamo e diventano nostri pensieri. Come se ci fosse dentro di noi una parte che pensa al nostro opposto. Questi tre pensieri, diciamo così, che portano alla disistima e che quindi vanno eliminati se vogliamo raggiungere l'autostima, cioè una buona percezione di noi stessi, se vogliamo andare alla ricerca dell'autostima perduta, questi pensieri che vanno sostituiti sono il pensiero di non essere in grado di superare gli ostacoli nella nostra vita, cioè di essere insicuri, di non avere la forza di superare gli ostacoli nella vita. Poi un altro pensiero è il pensiero proprio invece di essere usciti defettosi dalla fabbrica, di essere incapaci a raggiungere qualunque obiettivo, non tanto perché l'obiettivo non si può raggiungere, ma quanto perché siamo usciti male dalla fabbrica, diciamo così, che non siamo nella situazione migliore. Questo fa sì che costantemente, diciamo così, andremo a criticare pesantemente noi stessi e quindi l'autocritica eccessiva, se spinta, non diventa più un modo per migliorare, un modo per cambiare, ma diventa un modo per vivere sempre peggio. E poi c'è un altro pensiero che invece è ancora peggio, il pensiero di essere sfortunati, che l'universo ce l'abbia con noi, che diciamo siamo nati sotto una cattiva stella. Quindi entriamo qua in una dimensione non più reale, in una dimensione irreale, in una dimensione trascendente, e in questa dimensione noi andiamo a cercare una soluzione ai nostri problemi. però nel momento in cui iniziamo a pensare che la sfortuna, che la sfortuna ci attanaglia la vita, che le relazioni sentimentali non andranno mai bene, perché comunque siamo di fatto sfortunati, ecco che allora per profezia, diciamo così, autoavverante, andremo proprio a sperimentare quelle situazioni, andremo proprio a sperimentare situazioni negative che abbasseranno ulteriormente il livello di autostima. Ecco quindi che è un altro pensiero, quindi il pensiero di non essere in grado di superare gli ostacoli, il pensiero di essere usciti difettosi dalla fabbrica e il pensiero di essere sfortunati devono essere sostituiti con i tre pensieri opposti, cioè io sono fortunato, io ho tutte le capacità che mi servono per raggiungere i miei obiettivi e io, diciamo, posso tranquillamente superare gli ostacoli perché ci riesco. Ecco che questi nuovi pensieri devono essere inseriti artificialmente attraverso il dialogo interno, però questo dialogo interno deve essere usato soltanto quando siamo in uno stato emotivo rilevante, positivo o negativo, perché lo stato emotivo è quello che va a qualificare il dialogo interno, va a qualificare e fa sì che un messaggio per proprio il particolare stato d'animo in cui viene emesso diventi una suggestione, cioè in questo caso un'autosuggestione, cioè tenda a farci fare le cose coerentemente con il messaggio. Ecco, per questo video è tutto, ti ricordo l'appuntamento di domani, Torino, 7 febbraio 2020, ora 20.45, con il mio seminario Seduzione e emozioni per conquistare chi desideri e poi l'appuntamento di Milano, domenica 1 marzo, full immersion dal 9.30 al 19, autostimi e seduzioni, l'innamore nel lavoro. Per entrambi gli eventi il riferimento è il 333 15 11 703. Ciao a tutti!